Ultimi giorni prima delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Frosinone. Si sono registrati colpi di scena per l'uscita dal novero dei comuni al voto anche di Arce a causa della caduta del governo cittadino. Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, come è noto, sono di secondo livello, cioè sono ammessi alle urne solo i sindaci e consiglieri comunali. La conseguenza è un nuovo ritocco degli indici di ponderazione dove Frosinone, unico comune che vale il massimo per il clorlo dell'amministrazione di Cassino, vede il voto dei suoi consiglieri valere tantissimo. In fascia rossa, cioè i comuni che valgono di più subito dopo Frosinone, ci sono nove comuni. Alatri, Ferentino, Isola dell'Iri, Monte San Giovanni Campano, Ponte Corvo, Sora e Veroli. A questi comuni appartengono e voteranno in tutto 144 amministratori. Undici sono invece comuni in fascia grigia. Aquino, Arpino, Bovillerni, Cacervaro, Ceprano, Fiuggi, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca, Sant'Elia, Fiume Rapido e gli amministratori al voto per questa fascia sono 143. In quarta fascia, scheda arancione, ci sono 16 comuni. Amaseno, Atina, Castelliri, Castrodevosci, Castrocelo, Esperia, Morolo, Patrica, Pico, Piglio, Pofi, San Giorgio e Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino e Torrice. Gli amministratori al voto per questa fascia sono 208. L'ultima fascia coinvolge 51 comuni e ben 559 consiglieri al voto. Le liste in lizza sono sei. Partito Democratico, Provincia Protagonista, Lega, Provincia in Comune, Progetto Futuro e per la Provincia di Frosinone.